Assessore Arcangela Galluzzo è impegnata in diversi fronti sotto il profilo amministrativo ma è impegnata anche in un progetto diverso che sta inondando i social network in questo momento e che incuriosisce. Il progetto si chiama Quote Merito. Che cos'è? Quote Merito è l'associazione di cui io sono presidente e che ho fondato nel 2012. Lo slogan di Quote Merito è non importa che sia un uomo o una donna, ciò che conta è che sia una persona onesta e competente. Allora, dando per precondizione, quindi per scontata l'onestà delle persone, è importante misurarsi sulla competenza e questo prescinde dal genere, prescinde dall'essere un uomo o una donna, quindi è un po' una provocazione anche perché le quote rosa si possono imporre con una legge. Le quote merito invece devono essere scelte in maniera consapevole e voluta e quando si sceglie una quote merito vuol dire che si vuole fare sul serio. E come si fa a fare cultura in questo senso? Si fa andando in giro. L'associazione Quote Merito gira tutta l'Italia, ha fatto delle, diciamo, chiamiamole partnership con associazioni in tutta Italia che già operano sul territorio, ciascuna con la propria identità e prevalentemente nelle scuole, ma non soltanto nelle scuole, si fanno dei convegni che hanno come titolo Merito e competenza strumenti per la legalità, perché appunto porsi come meritevoli e come competenti permette anche di affrontare il tema della legalità e farne la propria bandiera. Il punto fondamentale di Quote Merito è che è un'associazione che non vuole assolutamente avere contributi né pubblici né privati, neanche il rimborso spese. Chi vuole fare questa attività girando l'Italia, come io faccio ormai da anni, e ora sono di ritorno, diciamo, dalla Calabria, lo deve fare a proprie spese, perché nessuno ci ha obbligato a parlare di legalità. Lo dobbiamo fare come missione, come volontari, perché è giusto, non perché è utile. E come si fa ad avvicinarsi a questa associazione? Si fa aderendo all'associazione con un modulo che si trova sul sito www.quotemerito.it, c'è una pagina Facebook, anche Quotemerito Associazione, si può scaricare il modulo e si può pagare la quota di iscrizione, che è pari peraltro a 10 euro, unicamente con bonifico bancario, perché vogliamo che tutto sia assolutamente tracciabile, quindi ancorché la cifra è bassa, bisogna prendersi anche un po' la briga di fare un bonifico, ma è un segnale, è un segnale, anche quello è un messaggio. Ultima domanda rapidamente, come rispondono i ragazzi quando andate nelle scuole? Guardi, è qualcosa di veramente edificante. Io torno da questi incontri che dico ne vale la pena, a volte faccio anche mille chilometri in pochi giorni, ma ne vale la pena perché rispondono in maniera entusiasta. Poi i ragazzi hanno ancora, io lo dico sempre, la curiosità di conoscere della conoscenza, di capire e di voler andare oltre. E noi dobbiamo aiutarli ad andare oltre anche perché questa è una generazione a cui purtroppo è stata tolta anche un po' la speranza del futuro. Quindi dargli degli strumenti per affrontare un futuro che sicuramente è un po' più difficile rispetto a quello che abbiamo affrontato noi, è un po' un dovere e loro rispondono con entusiasmo. Grazie a tutti.